Ciao, buongiorno. Mi chiamo Dante, sono italo-argentino, abito nella provincia di Macerata da 23 anni. Sto qua per raccontare il mio percorso su questa clinica. Però qui mi trovo bene proprio quando arrivi in clinica ti trovi a tuo agio perché è una cosa che ti fanno sentire a tuo agio in clinica. Ho iniziato il percorso, ho quattro interventi tra i quali il prelieve di tutti i denti, impianti, ricontruzione osso e gengive. Io ho finito un anno fa con i denti definitivi e mi trovo benissimo e quindi sono soddisfatto al 100% aver trovato questa clinica che loro ti vengono incontro in tutti i sensi e fanno il lavoro adatto a te. Non è che siamo tutti uguali, ogni persona ha un difetto o un problema diverso dall'altro in bocca e loro sanno come affrontarlo e non hanno paura di niente. Quindi si deve fare, anche i sigomatici osso, loro hanno un'esperienza e una capacità che uno non se ne immagina. Adesso sento come i denti miei, mangio normalmente. La pulizia è fondamentale, anche i denti naturali. Quindi la pulizia è in primo posto. Non è che sono denti, che sono super uomo, non è quello. Te danno la possibilità di avere i denti più naturali, però devi stare pure attento al mangiare, evitare il fumo e pulizia soprattutto. E proprio se uno deve fare un intervento del genere, magari aspettare un tempo e farlo per bene, perché di quel modo non è la bocca bionica, non è che mangi un mattone. Però se tu vai la vita normale, vai benissimo, non hai disturbo, dolore, quindi viva Palmas. Però in clinica subito, quando ti apre la porta parlano tutto il personale italiano, meglio di me, che sono argentino. Ti trovi benissimo. Loro, se alla parte tecnica, non parliamo del chirurgo perché sono bravissimo, loro sanno fare il lavoro che fanno, vanno direttamente a fare il lavoro che si deve fare. Ti fanno una visita, logicamente, un preventivo provvisorio in base ad un attacco. Arriva in clinica, ti fa una visita al chirurgo e lì decide quello che deve fare. Fuori dalla clinica e ho dato grazie a Dio per avermi dato la possibilità, perché mi aveva chiuso il mio stesso di non poter sorridere e parlare. Certo, al cento per cento, sono felice. E dopo ha cominciato a mia moglie perché le ha raccontato tutto il mio corso. Sì, tutto quello che aveva vissuto qua. Io ho fatto due viaggi e due interventi da solo, senza compagnia, senza niente. Però qua pure ti trovi persone tutte nella tua stessa situazione, quindi subito fai amicizia sotto al bar. Quindi ti trovi in famiglia del primo giorno. Mi sento rinato. Ho quasi 60 anni e penso che mi ha dato più... Io mi sento più giovane perché il sorriso è tutto. Mangio bene e ringrazio la clinica.